Oggi abbiamo avuto il piacere di vedere lo spettacolo di Nicolò e Irene. È stata una bella sorpresa vedere due artisti bravi e soprattutto quello che mi ha colpito è che stanno insieme e che esprimono questo bellissimo loro amore nella loro arte. Siccome anche noi siamo insieme, sogniamo insieme, sappiamo cosa vuol dire e ci ha fatto veramente molto piacere e sono proprio un esempio soprattutto poi in questo bellissimo matrimonio con il loro amore e il loro bellissimo figlioletto, Angelo. Bravo, ragazzi. Ciao.